È molto importante che il consumatore ma l'utente in generale sia informato su questi temi perché Internet of Things è ancora qualcosa di intangibile ma sempre più presente nelle nostre vite e quindi è importante che un'associazione di consumatori come Altro Consumo si metta in gioco insieme ai grandi player per promuovere Internet of Things e la conoscenza di queste tematiche.